Assessore Paolucci, è arrivata la nomina di Alfonso Mascitelli a direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale? Una nomina di alto profilo. Mascitelli oltre ad essere stato parlamentare e senatore della Repubblica è stato nella legislatura 2008-2013 anche il vicepresidente della commissione di inchiesta sulla sanità il cui presidente era Ignazio Marino e nei lavori di quella commissione ha anche avuto un modo di conoscere in modo approfondito, di argomentare e di scandagliare la storia recente della sanità abruzzese. Assessore, per quanto riguarda la sanità, il 2015 quali sono le priorità? Un nuovo piano sanitario che sia soprattutto un piano di sviluppo degli investimenti presso i presidi e soprattutto sul territorio nel comparto e nel settore della sanità. Abbiamo fatto tanto nei sette anni addietro per riequilibrare i conti adesso la sfida è programmare una sanità che sia vicina al cittadino, che metta al centro di tutte le scelte il cittadino e che sia in grado di svilupparsi in senso di servizi e di prestazioni di qualità. Ci sono preoccupazioni per alcuni tagli, tagli che riguarderebbero anche alcuni ospedali per così dire di periferia alcuni punti nascita che potrebbero chiudere. L'assessore alla sanità cosa dice? Ma che il tema degli ospedali è un tema ormai superato in questa regione nel senso che i tagli che sono stati apportati nel passato sono largamente ormai attuati e non bisogna tornare a operare con nuovi tagli. Il tema dei punti nascita è un altro. Noi dobbiamo mettere al centro la sicurezza dei nascituri e delle madri. Il tema vero è questo. In Abruzzo ci sono 10.194 parti e 12 punti nascita e non si tiene nel senso che nelle regioni più avanzate il numero dei parti nei presidi e nei reparti di ostetricia che sono in sicurezza il numero è molto più elevato. Se noi facciamo riferimento alla Lombardia, l'Emilia Romagna, la Toscana, cioè nelle regioni più avanzate o nel Veneto dove l'erogazione del servizio sanitario è più di qualità, ebbene in quelle realtà si nasce con molta più sicurezza che in Abruzzo. Quindi la sfida sarà il tema della sicurezza, non quello della chiusura dei tagli.